Che estate ragazzi! E la pizzeria è aperta anche a mezzogiorno! Paradise Beach, estate gustosa e risparmiosa! Il lido con i servizi spiaggia, bar e ristorante con tante specialità, una più buona dell'altra! Squisiti piatti a base di pesce, sala giochi, spazi ideali per le vostre feste private e banchetti! Paradise Beach, lungomare dei mille, di fronte stelle di Garibaldi, melito portosalvo! L'estate è tutta un'altra cosa al Paradise Beach! Ogni sabato pomeriggio, animazione e spiaggia!